Toscana, rinascimento senza fine e questo è il concept della nuova campagna di promozione turistica della regione toscana che ha come obiettivo sostenere la ripartenza e il rilancio del turismo per la stagione estiva dopo i difficili mesi del lockdown. Siamo partiti dalle previsioni più catastrofiche, siamo partiti dall'idea che il 2020 vedesse un meno 80, un meno 90% delle presenze e si parla di 95 milioni di presenze stimate in Toscana nel 2019, quindi dati disastrosi ma soprattutto dati che non mettevano in continuità la possibilità di sopravvivere a tante aziende. Rispetto a questa criticità l'evoluzione di queste settimane, direi quasi dell'ultimo mese, ci dà segnali più tranquillizzanti se possibile, sicuramente più positivi. Recupereremo buona parte di quello che era dato per perso. Dalle città d'arte come Firenze, Siena e Pisa, a borghi come Monte Riggioni, dall'abbazia di San Galgano, dalla costa e dalle isole fino alle sorgenti termali e alle Alpe Apuane, senza ovviamente dimenticare l'offerta enogastronomica. In Toscana, possiamo dirlo, non manca nulla. Chi vuole venire in Toscana sa di trovare tutto questo in termini di una qualità assoluta a livello mondiale e sa di trovare anche una regione sicura dove la protezione dei cittadini, della salute, è assicurata al meglio possibile a chi è toscano e a chi viene a trovarci. E per questo noi abbiamo fatto questa campagna, perché vogliamo essere vicini alla fatica, allo sforzo che stanno facendo tanti lavoratori, tanti imprenditori che si sono subito rimessi in moto, si sono rimboccati le mani, che hanno accettato anche i vincoli delle riaperture, comprendendo quanto siano importanti per dare ai cittadini un servizio sicuro. La campagna, realizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, parte con uno spot video rilasciato in prima battuta su canali digitali e visibili attraverso il sito di Visit Toscani. La prima di una serie di azioni, qui se ne affiancheranno altre online e offline, affissioni, giornali, media online, web advertising e radio. Abbiamo oltre 900 imprese che hanno aderito alla nostra call e quindi noi vericoleremo il traffico della campagna su visittascani.com, lì i turisti troveranno e potranno acquistare le imprese e commercializzare i loro specifici prodotti. Quindi la campagna vola alto perché il payoff di destinazione, che è Toscana Rinascimento Senza Fine, richiama un'immagine evocativa, però atterra immediatamente con le immagini sui 10-12 prodotti turistici della Toscana e quindi siamo immediatamente pronti a partire anche con le promozioni verticali di unione dei prodotti, a partire dal balneare, ma non solo il turismo montano che sta andando molto, nei borghi o anche un turismo particolare nuovo anche per le città d'arte. Grazie a tutti!